A Giuliano, la terza città più grande della Campania, questo è l'ospedale di riferimento per 300.000 cittadini. Gli operatori sanitari sono stremati e inferociti. Questi video descrivono il pronto soccorso che è praticamente al collasso. In una stanza mettono anche 4, addirittura 5 malati positivi al Covid e poi i percorsi non sono ben definiti e si intrecciano i percorsi sporchi e puliti. Io sto vedendo in questo momento la tenda in cui siete costretti. per prepararsi a questa seconda ondata non hanno comprato dispositivi, non hanno assunto personale in maniera adeguata. Il pronto soccorso è talmente obberato che nel parcheggio si stanno montando le varelle di emergenza per farci dormire i malati in eccesso. Ma lei di la 7 che ci siamo sentiti ieri, io sono il direttore dell'ospedale. C'è questa onda grossa che ha colpito tutti gli ospedali, tutti. Non ce n'è uno ospedale. E come che siete gialli? Questo lo dovrebbe chiedere a conto perché pare che loro hanno fatto... ci sono dei parametri che mi sfuggono. Ero più preoccupato di procurare delle altre barelle perché ho dovuto portare anche dei letti giù perché... Di letti? Dei letti giù in pronto soccorso per evitare però... Perché adesso se ho ben credito ce ne sono una trentina di persone in pronto soccorso, no? E solamente ce ne sono 24. Quindi il doppio della capienza? Sì. La prima barella è pronta, ma il direttore non è soddisfatto. Sembrano più delle... come dire... delle cose da visita. Ma è importante che comunque sostengono ciò che devono mantenere. Sono abbastanza... Ma perché qua devono passarci la notte? Eh va bene, ma ci sta immaginarsi. Un po' di... Questa è completa. Un po' di piatta. Voglio vedere quando alzate le... Eccolo qua, la stessa cosa dall'altro lato. Eh vabbè diciamo che è più da asporto che... Che da... Che da... Che da passarci la notte. Vabbè ma ne abbiamo altri. Io non me la passerei la notte adesso, con tutto il rispetto. In generale cercherei di non passarla. Andiamo a prendersi il covid, perché... Se uno si prende il covid, passerebbe da... Dovunque... Sì. Sì.